Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro come si collega due dei vettori a una presa. Prima di tutto spegnere la spina o come puoi. Spina, collegata, voi avrete il conduttore, divettore, divettore, spina, 10.16A, presa di passo. Filo blu neutro, filo nero fase, filo rosso ausiliare che può essere un coloro qualsiasi, tranne blu, nero e giallo verde. Il giallo verde è la massa terra. Scattoletta di via in versione. Porta mobile. Guardate la presa. Guardate la presa. Guardate. 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 se ha capito, e ci vediamo un prossimo video, ciao!